ehi ragazzi allora ciao sono tornato sono sono come quella quella erba cattiva che non muore mai non è vero ragazzi era una vita che non mi facevo vivo sono stato occupatissimo con il lavoro a settembre ma sono successe cose che mi piacerebbe raccontarvi anche dettagliatamente magari lo farò sono aspetti che riguardano molto il personal branding e anche un errore che stavo facendo in perfetta buona fede ma che mi danneggiava in un certo senso anche se non me ne rendevo conto ve la devo raccontare sta cosa comunque ho passato il mese di settembre a lavorare a seguito di un paio di cose che che ho capito e che mi hanno fruttato tantissimo dunque domanda appena arrivata nel gruppo dei fatti di seo sulle variabili dei prodotti domanda interessante ragazzi perché molti se la pongono molto spesso finiamo con il domandarci negli shop online come dobbiamo trattare le le pagine che hanno che sono praticamente uguali e hanno soltanto una piccola differenza come ad esempio il colore o altri attributi che ti devo dire una piccolissima variante allora intanto bisogna guardare i singoli casi per esempio io sono un musicista e vado sempre su toman a cercare strumenti musicali da acquistare è vero e mi accorgo che toman non usa le variabili prodotto praticamente mai se non in piccolissimi casi tutti gli aspetti che fanno la differenza minima tra prodotti praticamente uguali trovano su toman una collocazione come scheda prodotto a sé cioè toman fa una scheda prodotto per ciascun che ti devo dire un controller midi rosa un controller midi blu un controller midi verde lo stesso controller toman ci fa tre prodotti diversi perché perché sa che gli utenti cercano quel prodotto di quel colore vogliamo parlare di cosmetica ma è peggio che andare di notte lo stesso ombretto lo stesso rossetto lo stesso di un colore diverso deve assolutamente essere sviluppato come nuovo contenuto quindi ogni singolo item dovrà avere una scheda prodotto a sé cioè ma è lo stesso come faccio a differenziarli e questo è il problema vi spiego se hai tanti prodotti e decidi che perché ti rendi conto facendo una ricerca che gli utenti utilizzano sempre come si dice che gli utenti fanno effettivamente ricerche per quella piccola variabile quindi serve una scheda a sé accertati di diversificare i titoli opportunamente perché poi vai a fare la scansione con screaming frog ti accorgi che questi prodotti molto simili per i quali è scelta di fare schede diverse hanno di fatto lo stesso titolo e questa cosa è un problema perché poi si creano quei colli di bottiglia da cui google non riesce a venire fuori quando invece sviluppare gli attributi prodotto allora dipende dai dai casi quando ti accorgi che la differenza tra prodotti non è tale da comportare ricerche diverse quindi non ci sono elementi come il colore per esempio a variare ma sono degli aspetti molto tecnici di cui l'utente non è a conoscenza alla fine vedi il discrimine è proprio questo l'utente deve esserne a conoscenza se l'utente non è a conoscenza delle differenze allora porca paletta fai una sola scheda prodotto con gli attributi quindi ti sto dicendo che non esiste una regola non c'è non c'è una regola per la quale tu debba creare sempre gli attributi o sempre schede prodotto è importante allora la faccio molto breve adesso taglio e continuo a fare la mia passeggiata però prima volevo ricordarvi che abbiamo la tavola rotonda di semrash con massimo fattoretto emanuele rosio gaetano romeo e il me medesimo sottoscritto parliamo di che cosa è successo che cosa succede che cosa succederà e non si dica mai che i seoci hanno la palla di vetro perché sennò si offendono però intanto diciamo anche che cosa succederà perché siamo bravi ragazzi sto parlando come una trotto sono veloce perché mi siete mancati c'è un sacco di cose da buttarvi addosso proprio in senso buono mica vi voglio buttare cose brutte solo roba buona qua ve lo racconto quest'errore questa questa cosa sì me la racconto dai allora tu lavori al tuo personal branding per una vita ok sviluppi buoni contenuti posti sul blog ti apri un gruppo condividi sul gruppo inneschi quei meccanismi di ripetizione che sono ottimi che sono utilissimi dice vabbè quegli ottimi meccanismi di ripetizione che consolidano la tua presenza in un segmento di mercato ti fanno conoscere verso il tuo pubblico di riferimento va bene tutto benissimo problema è che se ti muovi poi sempre sulle stesse piazze anche una volta che hai raggiunto l'obiettivo di essere visibile a quelle persone se non cambi piazza continuerai a essere visibile solo per quelle persone ora l'errore qual è l'errore che tu credi di essere conosciuto nel tuo settore nel mio caso la seo e io credevo di essere un po conosciuto proprio nel digital in realtà nel digital non mi conosce nessuno questo vedi è questo il problema che poi ti aiuta anche a ridimensionarti con con te stesso quando ti guardi lo specchio quando pensi di essere arrivato tra virgolette poi ti accorgi che non è così ma per niente perché perché ti conoscono nel tuo microcosmo tu pensi che il tuo microcosmo sia grande in realtà poi ti accorgi che il tuo microcosmo è piccolo 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 piccolissimo ma quando te ne accorgi te ne accorgi quando ti invitano su altri canali ho fatto un paio di webinar per grosse aziende sulle quali non ero mai stato ospitato è vero e grazie aziende del digital mi sono accorto sono stato contattato dal pianeta cioè ah non ti conoscevo mi piace come esponi e dentro di me leggo in bestialità ma come non mi conoscevi io sono francesco margherita come facevi a non conoscermi e invece no quindi ma del resto anche gli utenti di facebook no pensano di essere in contatto con tante persone pensano che quando postano qualcosa questa cosa viene letta dal mondo no allora a volte capita nel 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 profilo di pinco pallino qualunque che fa un post rivolgendosi a salvini salvini fai così fai colì fai colà l'hai fatto così dovevi fare colà come se questo post potesse avere una eco tale da arrivare veramente a salvini o alla meloni o a trump che ti devo dire a chiunque sia l'oggetto diciamo dell'interesse in quel momento in realtà è una grande illusione e anche quando lavoriamo per presenziare delle piazze anche là ci stiamo illudendo che presenziando quella piazza noi diventiamo visibili a tutto il mondo delle persone che possono essere interessate a quello che facciamo bisogna cambiare piazze il primo step è sicuramente lavorare sui meccanismi di ripetizione quindi farsi vedere creare uno zoccolo duro dopodiché bisogna assolutamente variare la dieta direbbe il dietologo bisogna bisogna spostarsi bisogna fare altro avete esperienza in questo senso vi è capitato mai di rendervi conto di essere delle nullità cosmiche come il sottoscritto dice perché perché poi quando vi siete affacciati un attimo altrove avete trovato un riscontro pazzesco da parte di persone che non ha di un sacco di persone che non avevano proprio idea di chi foste e vedi vabbè perché vedi esistono aziende nei piccoli fatti esistono aziende che non sanno manco bene aziende che sono interessate ai servizi di consulenza seo che però non è che vanno su su google a cercare i seo e questo è il grande segreto della vita no fondamentalmente le aziende importanti non cercano i fornitori su google andrebbe detta sta cosa piuttosto conoscono altre realtà digital ma neanche sanno tanto bene di seo molto spesso e quindi forza vediamo un po se si è capito vediamo se ci sono un po di feedback a questa cosa che ho detto ragazzi continuo a passeggiare se avete commetti su questa cosa ci sentiamo qua sotto e ciao 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 ciao